Il caldo è iniziato a diventare asfissiante e come non bastasse la notte arrivano anche gli acquazzoni. Il presidio dei 56 dipendenti fuori dall'exo di Maserat, iniziato dopo che l'azienda aveva annunciato la chiusura del sito produttivo per delocalizzazione in Bosnia, è arrivato al quarantesimo giorno e tenerlo in piedi è sempre più duro. Ma l'attesa è quasi finita. Oramai è questione di ore prima che il Ministero dello Sviluppo Economico si tenga l'incontro che dovrebbe essere decisivo e nel quale i sindacati si attendono un atteggiamento più collaborativo da parte dell'azienda. Noi ci aspettiamo una risposta positiva in quanto l'azienda ha più volte sostenuto di avere a cuore il futuro dei 56 dipendenti che per loro non è stata una scelta facile e quindi pensiamo non sia così insostenibile un arretramento della propria posizione e una condivisione di un percorso diverso rispetto ai licenziamenti. L'exo Italia è di proprietà del gruppo americano Crocs. Prima della decisione di delocalizzare in Bosnia a Maserat venivano prodotti a ciclo continuo 7.000 paia di zoccoli di gomma al giorno. L'alternativa ai licenziamenti potrebbe essere una riqualificazione industriale del sito quindi l'apertura di un tavolo su quali possibili produzioni possano essere adottate. Al presidio permanente intanto si segue col fiato sospeso in quello che potrebbe essere anche l'ultimo giorno di protesta. Speriamo perché se verrà tolto vorrà dire che ritorniamo da Roma con un risultato positivo e ricordiamo che noi siamo disponibili a trattare e a parlare di qualsiasi cosa che non siano i licenziamenti. Grazie. 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 Grazie.